Si chiama Pescara provincia protagonista, l'ultima associazione nata sul territorio pescarese con un obiettivo abizioso, rilanciare in un periodo di crisi d'immagine per l'istituzione provinciale l'azione dell'ente. Nessuna ambizione politica assicurano i ragazzi del direttivo dell'associazione, formata per lo più da giovani, convinti che ci sia la necessità di impegnarsi nella società civile e fare da collante tra l'amministrazione pubblica e il territorio. Si partirà subito con progetti concreti, annunciano durante la conferenza stampa, concorsi di formazione nelle scuole, un censimento per capire i bisogni e le problematiche del territorio provinciale e una mostra d'arte che unirà artisti emergenti ed affermati, tutti espressione del territorio pescarese. Si cerca di rilanciare non per fini esclusivamente politici ma soprattutto per fini associativi. Noi sappiamo che la politica comunque è associazionismo, comunque nel sociale si vive di rapporto tra le persone e si deve comunque sviluppare quel senso di comune interesse che comunque mi interessa tutti i cittadini tramite la cultura, tramite lo sport, tramite la beneficenza e tramite tanti eventi che possono accomunare anche la pubblica amministrazione con il cittadino stesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.